I giornalisti continuano a stare tra la gente, è essenziale l'incontro e non in un incontro invece che spesso è generato dall'uso smuodato delle nuove tecnologie, importanti ma se usate con intelligenza. Lo ha detto l'Arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, nel consuato incontro con i giornalisti in occasione della festa del loro patrono, San Francesco di Sales. Capire le opportunità che queste nuove tecnologie offrono, sapendo però capire quali sono i rischi, quindi vanno valorizzate le capacità di creare legami più intensi, più forti, più rapidi, però possibilmente vanno neutralizzate le patologie di una comunicazione scomposta, scorretta e non capace di far crescere la comunità. Io penso che si debba affinare il senso critico sia delle persone sia di quanti, come giornalisti, hanno il combito di tutelare la buona comunicazione. Monsignor Petrocchi ha alloggiato il lavoro svolto all'Aquila dalla stampa, punto di riferimento preciso e puntuale, ha detto, sia durante terremoto che nella delicata fase di oggi della ricostruzione. Io sono molto grato ai giornalisti perché rappresentano una rete fondamentale che consente alle persone di non sentirsi sole, perché quando c'è un evento drammatico, come quello che ha vissuto l'Aquila e come purtroppo gli eventi ultimi sembrano riattivare, il rischio è che la persona si chiuda in se stessa, perché la sofferenza si fa così grande da non poter essere detta per intero. Voi consentite di creare delle linee di comunicazione che consentono alle persone di sentirsi dentro un insieme, che se da una parte fa l'esperienza di una sofferenza allargata, dall'altra però si pone come soggettività capace di vincere le avversità e di aprire un futuro bello.